Su questa terra si continua a morire. L'ho preso in braccio e gli ho cantato una canzoncina che noi ci cantavamo nei momenti un po' difficili, no? E lui si è abbandonato tra le mie braccia e è andato nel cielo. Noi vogliamo sapere la verità, vogliamo che per i nostri bambini ci sia un futuro migliore. Antonio mi ha lasciato tanto, le sue ultime parole sono state «mammina, papà, sapete chi siete voi, il gioiello del mio cuore». Io penso che sia importantissimo guardare negli occhi la piovra mafiosa, avere coscienza che non riguardi solo una parte del nostro paese e a quel punto riusciremo a iniziare a sconfiggerlo.